Ben ritrovati a confronti, la nostra rubrica dedicata a quello che accade nell'aula del Consiglio Provinciale. Vi presento subito i miei ospiti di oggi, Gian Piero Passamani, ben arrivato, capogruppo in Consiglio Provinciale per l'Unione per il Trentino, ben arrivato Passamani. Buongiorno a lei. Filippo De Gasperi del Movimento 5 Stelle, ben arrivato De Gasperi anche a lei, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, modifichiamo un po' la nostra scaletta degli argomenti, perché? Perché c'è questa notizia fresca fresca dell'ultima ora della parità di genere, la doppia preferenza di genere, che con un escamotage, non siamo qui a raccontare come, comunque arriva in aula. Oggi o domani dovrebbe essere approvato, quantomeno discusso. Passamani, innanzitutto le chiedo se è la volta buona in cui la maggioranza approverà. Devo dire che è stata una sorpresa anche per noi, a dire la verità, questa opportunità, anche se è vero che noi all'interno del nostro programma di governo del Presidente Rossi avevamo inserito quello che riguardava questo passaggio. Devo dire che se la vedo da un fatto personale, dico che partiamo al contrario a fare il ragionamento, perché non c'è dubbio che per valorizzare il mondo femminile anche all'interno del panorama politico ci vorrebbero sicuramente delle uguaglianze nella società civile, prima di tutto, perché comunque sia, è vero insomma che se una donna non è in politica perché ha degli impegni molto forti a partire dalla famiglia, per fare un esempio e tante altre cose. Ora devo dire che partiamo al contrario, però comunque siamo convinti che aiutare quello che riguarda questo procedimento può essere utile, anche perché devo dire che sta crescendo molto diversi rispetto qualche anno fa, anche nella società civile a pensare anche, porto degli esempi anche all'interno dell'associazionismo, a pensare che comunque sia valorizzare la donna sia veramente giusto, corretto e anche vantaggioso. Porta anche dei risultati positivi. Porta anche dei risultati positivi, sì che mi dispiace la forma che diventa quasi una forzatura, però è altrettanto vero che se serve anche questo a far crescere appunto quello che riguarda la presenza del mondo femminile anche all'interno della politica ben venga, insomma dopodiché devo dire che al nostro interno avevamo discusso, eravamo sì per valorizzare il mondo femminile in un modo un po' diverso, quella delle tre preferenze e una di genere diverso, però comunque sì insomma siamo arrivati a questa sorpresa, io direi anche una sorpresa positiva perché i diritti civili comunque all'interno dell'Unione Europea del Trentino sono sempre stati sottolineati. Ma sorpresa, non ve l'aspettavate perché non avete letto il testo arriva con insomma due articoli inseriti all'interno di un disegno di legge sulla elezione diretta del Presidente, cioè questo testo non è stato letto prima di arrivare? Io sono nella Commissione competente, io l'ho letto questo, è chiaro che la domanda era ben diversa perché il Presidente è eletto direttamente, lo è già, ma erano gli assessori eletti direttamente, insomma tutti l'abbiamo sottovalutati e soprattutto eravamo contrari, prova ne sia che non abbiamo neanche discusso in Commissione, abbiamo andato con l'ordine del giorno in accordo comunque con la proponente direttamente in aula. De Gasperi, lei resta sulla sua posizione che non c'è bisogno della doppia preferenza di genere? Sì, direi che il problema che abbiamo in Consiglio Provinciale a Trento non è un problema delle minoranze, è stato più che altro un problema interno alla maggioranza del motivo per cui si è arrivati a questa situazione. Ricordo che nell'ultima tornata consigliare in cui si è trattato dell'argomento, appunto la discussione si è fermata dopo che è mancato il numero legale e questo non sicuramente per colpa delle minoranze, quindi i problemi erano tutti interni alla maggioranza. Noi abbiamo sempre sostenuto che bisogna partire dall'altro verso, ovvero dal fatto che le donne oggi non possono partecipare alla vita politica per motivi che esulano dalla loro volontà e che questo tipo di iniziativa non farà altro che favorire il piccolo e ristretto nucleo di donne che già oggi sono, tra virgolette, privilegiate e che quindi possono già partecipare alla vita politica. Quindi è sostanzialmente una legge che evita di andare alla radice del problema e viene usata come foglia di fico per giustificare poi una corsia preferenziale per alcune donne che già oggi appunto partecipano alla vita politica. Devo dire che noi come Movimento 5 Stelle non abbiamo mai avuto problemi di questo genere, nel senso che tradizionalmente la quota di eletti del Movimento 5 Stelle avvicina molto il 50 e 50. Recentemente anche in Sicilia su 20 consiglieri eletti 10 sono maschi e 10 sono femmine. Quindi questa è la dimostrazione che non c'è alcun bisogno di norme di questo tipo per favorire la presenza femminile. Se a Monte poi non c'è nemmeno la regia, chiamiamola, di segreteria di partiti che decidono in sede separata chi devono essere candidati, i cittadini naturalmente scelgono, naturalmente e direi anche statisticamente scelgono metà maschi e metà e noi siamo appunto la dimostrazione. Diciamo che un po' i presupposti di entrambi sono molto simili e allo stato attuale, visto che bisogna pensare poi anche agli provinciali, il Movimento 5 Stelle e UPT ha delle donne da candidare? Sicuramente nel nostro gruppo le donne partecipano, bisognerà vedere, partecipano nella proposta, nel costruire le iniziative, bisognerà vedere se si renderanno anche disponibili alla candidatura. C'è già qualche nome? No, no, assolutamente, questo non è stato mai un argomento di discussione di questa fase. In questo momento bisogna essere sinceri, siamo concentrati più sulle nazionali, sulle elezioni politiche che sulle elezioni provinciali, ma io penso che come è sempre successo nel nostro gruppo lo spazio per le donne c'è sempre stato e così sarà anche per le provinciali dell'anno prossimo. Quindi per noi non cambia assolutamente nulla, cambia molto per i cittadini che si vedranno limitare nella loro possibilità di scelta e sostanzialmente ritengo non cambierà nulla per quelle donne che oggi non possono partecipare. Bastamani? Anche noi diciamo che per fine anno avremo la Commissione elettorale, di conseguenza è ovvio che a questo momento non abbiamo sicuramente fatto nessun nome, neanche meno, insomma, contattato anche perché mi sembra corretto che ci sia una Commissione adatta che fa questo. Tra l'altro noi metteremo assieme appunto quello che riguarda sia le politiche che le provinciali proprio perché ci sia il giusto spazio per tutti. Chiaramente noi all'interno, sia della segreteria al di là del nostro statuto ma anche nel parlamentino, circa un 40% sono comunque donne, insomma di conseguenza noi siamo già da questo punto di vista, insomma, è un problema relativo. Certo è che insomma quello che rimane, insomma, che ci lascia un po' la mano in bocca è che effettivamente invece che vederlo in positivo questa cosa qua, effettivamente di poter dare che sia un'apertura al mondo femminile, è in vista quasi ed esclusivamente quasi limitante per quello che riguarda l'elettore. Questo ci dispiace, insomma, perché un elettore deve essere il libro di votare anche se vuole tre donne per noi, insomma, tranquillamente, perché no, insomma, comunque noi faremo di tutto per poter valorizzare il mondo femminile, siamo su questa strada già per delle persone che stiamo, che sono già all'interno del partito. I nomi? Penso che è la commissione che fa questo, insomma, è giusto lasciare la libertà di lavorare, insomma. Venendo a quello che accade invece in aula, sempre in questi giorni dopo la questione della doppia preferenza di genere, mi è balzato all'occhio una proposta di voto, appunto, che arriva in aula il 29 contro la violazione dei diritti nello Yemen e per il blocco delle esportazioni delle armi nei paesi dell'area medio orientale. È una proposta di voto che è stata votata, appunto, e sottoscritta dai capi gruppo, ma non da De Gasperi. Allora un cittadino trentino elettore si domanda perché c'è questo interesse e oppure non c'è questo interesse. Bisogna spiegare il progresso. Questa è una proposta di voto che prende spunto da una proposta di voto, da una mozione, un ordine del giorno, non ricordo esattamente, che era stato presentato in Parlamento e che il Parlamento ha bocciato. Che poi arriverà di nuovo eventualmente comunque in Parlamento perché la provincia di Trento non ha potuto... Ma questa era un'iniziativa dei parlamentari e il Parlamento ha bocciato questa proposta di voto, mozione, ordine del giorno, non ricordo esattamente che tipo di atto politico fosse. Quindi la nostra posizione è quella che, prescindendo dal merito, perché poi lo stesso atto è stato presentato in Consiglio regionale e da noi è stato votato in maniera assolutamente concorde, serve a evidenziare l'ipocrisia perché naturalmente lo stesso partito che presenta questa proposta in Trentino a Roma fa in modo che questa proposta non venga approvata, ritengo sia interessante da segnalare agli elettori. Quindi noi cerchiamo di entrare oltre il merito e per questo motivo non abbiamo firmato la proposta. Eventualmente questo non incide sulla buona fede che noi riconosciamo al proponente dell'iniziativa sul nostro territorio. Appunto, la dimostrazione sta nel fatto che abbiamo votato la proposta in Consiglio regionale, però ci tocca per forza come gruppo di minoranza sia in Trentino che a Roma evidenziare la bipolarità, perché se a Roma quella proposta fosse stata approvata non ci sarebbe stato bisogno della proposta di voto né del Consiglio regionale né del Consiglio provinciale. Quindi agli elettori, penso sarebbe ai cittadini, sarebbe utile spiegare come mai il Partito Democratico in Trentino porta avanti questa iniziativa e a Roma invece la stessa iniziativa è stata cassata. Bastamani? Ma sì, devo dire che oltre al merito, che effettivamente è molto chiaro nella mozione, perché ovviamente è mettere in luce quello che riguarda un problema reale dell'Italia e anche del Trentino per quello che riguarda un'immigrazione che non è controllata e di conseguenza sicuramente c'è bisogno di capire cosa fare. Devo dire che currentemente noi abbiamo votato sia in Consiglio regionale e altrettanto lo faremo in Consiglio provinciale. Devo dire che l'iniziativa partita in particolar modo dal collega media civico, che ha una sensibilità molto elevata su questo mondo, ha lo scopo effettivamente di far capire che la soluzione non è sicuramente portare delle armi in questi paesi che hanno già delle grosse difficoltà, le soluzioni sono altre. Se non le troviamo nel loro territorio, oltre che a livello europeo, oltre che nazionale, ovviamente sicuramente quello che riguarda l'immigrazione sarà sempre un problema, insomma, invece che poter essere anche un valore aggiunto. Allora per questo credo effettivamente che sottolineare, che poi noi non possiamo fare altro perché come si sa insomma non è di competenza provinciale, non possiamo altro che sottolineare questo disagio che abbiamo in Trentino, che comunque va per dare delle risposte, ci saranno altri emersi non questi, ovviamente riportando in aula romana quello che riguarda qualcosa che secondo me, per il quattro di vivere probabilmente di maggioranza, immagino io, sicuramente non mi sono confrontato, c'è stato un voto negativo, insomma, questo sicuramente non va assolutamente bene perché il problema non si risolve così, insomma, assolutamente. Anzi, crea anche confusione magari nel ritorno. Assolutamente sì. Venendo invece alle questioni di casa nostra, a metà dicembre approde in aula la finanziaria che è stata appunto approvata e ha superato le varie commissioni. Innanzitutto, Passamani, le chiedo che manovra finanziaria è rispetto all'originale? Come arriva il testo oggi in aula? Devo dire, non per partita di causa perché sono in maggioranza, però devo dire insomma che di queste finanziarie, di questa legislatura la trovo veramente la migliore. Ha due passaggi. Uno, che sicuramente c'è stata una certa stabilità di conti a livello nazionale che ci ha dato la possibilità di capire quanta coperta di bilancio abbiamo. E questo è stato sicuramente il primo passo che ci ha permesso, per ricomando, la Giunta che l'ha strutturato e la struttura ovviamente, che poi è approdata in commissione, secondo me è un bilancio molto positivo, di cui, come è stato fatto dall'inizio della legislatura, non sono stati fatti i grossi tali su quello che riguarda i servizi, i servizi sono stati confermati di qualità, perché queste sono le classifiche che ci danno delle risposte, tutto è da migliorare, però comunque i servizi... Non c'è dubbio, insomma, che in questi anni abbiamo fatto di grossi tali per quello che riguarda in particolar modo, insomma, nel mondo dell'economia, insomma, non quanto quella industriale, perché è stata supportata in tutto e per tutto in questi anni, ma mi rivolgo in particolar modo a quello che riguarda, in particolar modo su quello che riguarda i lavori pubblici, piuttosto che le di lista, cioè quei mondi che effettivamente da questo punto di vista sono rimasti indietro. Quello che riguarda tutto il resto, devo dire che è una manovra molto attenta, attenta in tutti i comparti, di fatto gli assessori li ho visti tutti quanti, insomma, per quello che riguarda le loro intenzioni con capacità di spesa e devo dire che anche facendo parte appunto della prima commissione, ho trovato anche nelle audizioni, che ero presente a tutto, tutto quello che è stato il lavoro della prima commissione, ho trovato delle positività, insomma, anche da parte delle categorie economiche, piuttosto che sindacati, ovviamente ci sono anche delle problematiche e due che sono emerse, due nette, è quello che abbiamo investito dall'inizio della legislatura che non si vedono i frutti totali, che è la banda larga o ultralarga, di cui è stato investito ancora, ricordo due anni fa anche, tre quarti della manovra di assestamento era stata messa sulla banda ultralarga, sono arrivati i diffondi anche a livello nazionale, insomma, devo dire che a oggi la risposta qua non c'è, se devo dire un grido d'allarme che condivido da parte, in particolar modo, di categoria economica è proprio arrivato su questo. L'altro passaggio, tra l'altro l'ho presente all'Assemblea degli Artigiani, fine settimana scorsa, devo dire che la semplificazione per me è un tema di cui ci ho provato dall'inizio, avevo lavorato ancora nella passata legislatura e devo dire insomma che la semplificazione ce l'han chiesta a tutti, noi abbiamo un disegno di legge comunale per il 31 depositato, domani abbiamo un incontro definitivo, mi auguro che entri veramente in aula ormai ovviamente a gennaio, perché che chiedono è semplificazione, più che... Grazie. Una manovra finanziaria dove prevale soprattutto il segno positivo, De Gasperi, lei condivide questo ottimismo? Il segno positivo prevale perché i cittadini e le imprese hanno pagato più imposte, quindi non è che sia un merito di chi governa questo territorio se nel 2018 ci saranno più risorse, semplicemente appunto i cittadini e le imprese verseranno più risorse di quello che ci si aspettava e la nota critica nostra parte proprio da questa osservazione, visto che appunto il gettito cresce, cresce l'IRES, cresce in misura marginale l'IRAP, era forse il caso come più volte propagandato di intervenire in maniera diciamo sensibile e ridurre la pressione fiscale per quanto compete alla provincia autonoma di Trento e invece questa operazione non si è fatta, le agevolazioni fiscali sono praticamente le stesse degli anni passati, non c'è assolutamente nulla di nuovo e questa è la prima osservazione critica, sul fronte degli investimenti anche qui non c'è nulla di nuovo, nel senso che si riproducono promesse che trascorsi 4 anni uno si aspetterebbe anche di vedere, non realizzate ma almeno abbozzate, si parla sempre del NOT, si parla sempre della banda larga, ieri sono usciti i dati del solo 24 ore e sulla banda larga Trento, se non sbaglio è penultima, comunque è nelle ultime posizioni, quindi evidentemente negli anni scorsi quando si è parlato di banda larga se ne è appunto solo parlato e quindi gli investimenti che si promettono sono sempre gli stessi, il nuovo ospedale di Trento, la banda larga, il polo della meccatronica, il ritornello è sempre uguale, però di concreto non si vede assolutamente nulla, ci sono soldi per iniziative che noi reputiamo assolutamente deleterie, come i 46 milioni per i nuovi bacini di nevamento artificiale, anziché cominciare a pensare a percorsi di sviluppo diversi per i territori che sono in difficoltà evidente dal punto di vista della fruibilità degli impianti sciistici, si insiste sempre sullo stesso modello che peraltro ha dimostrato di non funzionare in più di una località trentina, andando a pesare in maniera evidente sulle casse pubbliche, quindi non c'è nulla di nuovo se non il fatto che in virtù di una ripresa che non dipende dalle scelte operate in Trentino, cittadini e imprese versano più imposte, quindi ci saremo aspettati di assistere, viste le risorse a disposizione, a una sorta di intervento shock sull'economia trentina, cosa che invece assolutamente non c'è, stessi strumenti, stesse strategie che hanno dimostrato di funzionare così così negli anni passati. Dunque i terreni di scontro e di confronto sono diversi, vedremo poi il lavoro in aula come proseguirà, intanto buon lavoro davvero ad entrambi, grazie per essere stati con noi, Gian Piero Passamani, capogruppo in consiglio provinciale dell'UPT, Filippo De Gasperi di Movimento 5 Stelle, grazie ad entrambi, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie per averci seguito, buongiorno da RTTR vi dà appuntamento a domani mattina, io vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti.